Una densa nube di fume nero, fiamme alte, un forte odore di bruciato e le sirene dei mezzi di vigili del fuoco accorsi da cinque città per domare l'incendio. E' questo lo scenario che si è presentato ieri sera agli occhi dei dipendenti della Profiglass e dei residenti nella zona industriale di Bellocchi di Fano. Un ruogo di vaste proporzioni è scoppiato poco dopo le 23 nell'impianto di laminazione dell'azienda con sede in via Meda specializzata nella lavorazione dell'alluminio. Secondo le prime ipotesi, le fiamme sarebbero scaturite accidentalmente durante la lavorazione e sarebbero state alimentate dal chierosene, un prodotto utilizzato per la lubrificazione del laminatoio. E mentre il ruogo stava divorando 500 metri quadrati della struttura, una nube nera ha sovrastato in poco tempo l'intera area circostante, creando preoccupazioni fra i residenti. Ad allertare il 115 è stato il custode dell'azienda e tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco di Fano con la collaborazione dei colleghi di Pesaro, Senigallia, Ancone e Cagli. I 26 uomini in azione con autopompe, botti e carri schiuma sono riusciti ad evitare che il fuoco si propagasse ad altri reparti. Per fortuna non si registrano né feriti né intossicati, ingenti invece sono i danni riportati allo stabilimento. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Fano sotto la guida del dirigente Stefano Seretti. Abbiamo noi effettuato tutte le verifiche del caso, sempre sulla scorta delle attività dei vigili del fuoco, di eventuale inquinamento, se c'era necessità di evacuazione di residenti nelle zone limitrofe. Fortunatamente non c'è stato alcun interessamento della zona residenziale di Bellocchi, anche per i fumi che venivano sprigionati dall'incendio. Più la zona di Tre Ponti e Caminate, però anche le nostre pattuglie hanno verificato, anche contattando alcuni residenti, insomma che la situazione era in netto miglioramento. C'è stato un passaggio basso della nube, dovuto soprattutto alle condizioni meteorologiche, che però dopo immediatamente si è poi dissolta la nube verso direzione sud, senza interessare il centro abitato. Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco è rimasta sul posto per tenere sotto controllo il ruogo e mettere in sicurezza la zona interessata dall'incendio. Inoltre l'intera area di produzione di circa 2.500 metri quadrati è stata resa inagibile per chi è ceduta parte della copertura e la mera del capannone.